Una battaglia sui diritti civili e in contemporanea la presentazione dell'ultimo lavoro letterario di Vladimir Luxuria. Si è inaugurata così ieri sera alla sede dell'associazione Archigay di Basilicata, un'associazione che trova spazio nei locali del CSV di Potenza. Sentiamo. Una battaglia sui diritti civili, sulla necessità di far comprendere al mondo che il popolo LGBT non è un popolo anormale e diverso, ma ha un cuore come tutti e soprattutto ama incondizionatamente. E per questo va rispettato e tutelato, proprio come ogni persona. In sintesi questo è il messaggio venuto fuori dall'incontro che l'Archigay Basilicata ha tenuto ieri con Vladimir Luxuria, madrina per l'occasione della prima uscita ufficiale dell'associazione Lucana. I diritti civili, dunque, quelli che non fanno distinzione se ad amarsi sono due uomini, due donne o un uomo e una donna, ma che nella nostra Italia, ancora un po' regretta, fanno la differenza quando si parla di tutele. Come l'uomo e la donna che convivono, che non hanno diritti in caso di malattia o di eredità, così accade che anche due coppie omosessuali si vedano negati i principali diritti che vengono invece ereditati dalle coppie cosiddette normali. Contro questo stato di cose è la battaglia dell'Archigay, che tende ad unificare ed equiparare due mondi che non sono per nulla differenti. Riconoscere come una famiglia bisognosa per l'accesso a una casa popolare anche una coppia formata da persone dello stesso senso che non hanno possibilità di avere una casa, tutto quello che riguarda il welfare esteso anche alle coppie conviventi, la possibilità comunque per dei cittadini potentini di potersi iscrivere appunto in un registro dell'Unione Civili. Quindi bisogna farlo, è una lotta di civiltà, non è qualcosa di ideologico. Io credo che veramente, ma è una questione di destra o sinistra, credo che sia una questione solo di avere un cuore o meno. La presenza di Vladimir Luxuria anche per presentare il suo ultimo pasto, L'Italia Migliore, un libro in cui si parla di due sorelle, una insegue il successo e lo fa scivolando nel letto di chi può garantirglielo. Alla fine il vero successo non sarà quello conquistato vendendolo, cedendo il proprio corpo, ma quello ottenuto ritrovando la sua vera identità. È una storia tutta il femminile, un grande omaggio che ho voluto fare a tutti i modi di essere donna, perché ci sono vari caratteri, c'è sicuramente una femminilità più tradizionale, quella di Camilla, che ha una famiglia, un figlio e legata al suo paese. Invece c'è una femminilità che viene usata da Marianna per diventare famosa, usando anche il proprio corpo per ottenere un programma televisivo, e non ho letto col direttore della rete, ma qui siamo nella fama scena, che queste cose non succedono in realtà. L'Arcichedi Basilicata ha aperto ufficialmente la sua sede presso il CSV di Potenza per far sì che chiunque abbia bisogno di essere ascoltato in un mondo cieco e sordo trovi le persone giuste per un consiglio, per risolvere un dubbio o semplicemente per confrontarsi. Io sono stata qui due anni fa a presentare un altro mio romanzo, il Dorado, e parlando con tutte le amiche che ho conosciuto e gli amici che ho conosciuto, avevamo proprio preso questo impegno, cioè ci avevamo chiesti perché tutta la Basilicata non deve avere un'associazione, perché un ragazzo giovane gay, un adolescente trans, una ragazza lesbica non deve poter avere un punto di riferimento nella regione e obbligare questa gente ad andare via. Mi piacerebbe che ognuno di noi potesse avere la libertà di poter rimanere nel luogo in cui nasce. Se una persona è lucana, è nata in Basilicata e ama rimanere in questa regione, ha la possibilità a queste persone di rimanere nella propria terra, non essere obbligate ad andare via perché non ci sono associazioni, perché non ci sono iniziative, perché c'è ostilità sociale. Questa è un'operazione importantissima.